L'estate è finita ma mi sono divertita troppo con le letture bruciate quindi siamo di nuovo qui Bentornati in questo nuovo video, benvenuti se è la prima volta che arrivate in questo canale Iscrivetevi tipo senza fretta, non vi sto mettendo pressione assolutamente Vi ricordo che qui sotto ci sono tutti gli altri social, se volete i link di affiliazione Ovviamente per questo libro non è consigliata la lettura però c'è da considerare che questo libro è tipo super popolare Quest'estate si parlava solo di questo su TikTok quindi potrebbe piacervi effettivamente E da qui la solita premessa, se questo libro vi è piaciuto, se siete fan di questa autrice, se vi piace questo genere Io non ho niente contro voi, contro l'autrice, contro chiunque apprezzi questo romanzo Anche perché è stato stravenduto quindi direi che io non sono qui a giudicare il mercato Semplicemente c'è gente che lo legge perché gli piace intensamente e c'è gente come me che lo legge perché le fa ridere Quindi se amate questo libro e volete insultarmi almeno siate creativi Altrimenti divertiamoci insieme a vedere che cosa accade in The Love Hypothesis Io ho visto questo libro su TikTok e sono stata catturata dalla trama Praticamente vi racconto la trama poi andiamo a vedere effettivamente come si svolge La protagonista questa volta si chiama Olive e è una laureanda in biologia Sì, è una laureanda in biologia e quindi siamo nell'ambiente universitario La sua migliore amica ha interessi amorosi verso l'ex di Olive E per convincere la sua migliore amica Olive dice di avere un altro ragazzo che però non esiste Quindi per darle la dimostrazione limona il primo tizio che becca in corridoio Tizio che si rivela essere un professore e da qua parte la nostra trama Quindi andiamo a vederla con calma Partiamo dal prologo che già ci riserva Se già la trama non era abbastanza ridicola Il prologo ci assicura divertimento Senza ombra di dubbio Capiamo subito che Olive è una ragazza timida Che si svaluta in continuazione Perché le protagoniste che sanno il fatto loro non ci piacciono evidentemente E tutte queste insicurezze la trattengono dal lanciarsi anima e corpo nella specializzazione Anche se ha ottenuto un colloquio a Stanford E quindi nonostante tutte le sue remore ci va E qua già nelle prime righe troviamo la confusione Perché ci dice che era consapevole di tutte le ore che avrebbe dovuto passare in laboratorio Tutte le ore di studio Tutto lo stress di altri specializzanti Che non avrebbe avuto un soldo Qualsiasi cosa che avrebbe potuto farla desistere dal presentarsi a colloquio E fare effettivamente la specializzazione Ci dice Forse dedicare la mente e il corpo alle attività accademiche Corrare pause per rubare bagel incustoditi Poteva non essere una scelta saggia Lei è una cleptomane di cibo Comunque vabbè E quindi ci dice di tutti questi disagi ne era consapevole Eppure niente di tutto ciò la preoccupava O forse sì un po' Ah già perché Olive in continuazione è indecisa Il bello è che questo è uno dei pochi libri che non è narrato in prima persona Il problema è che nonostante il narratore sia esterno Ci trasciniamo dentro tutte le pare mentali di Olive E anche i suoi pensieri contrastanti Quindi appunto Era preoccupata un po' Forse sì No Sei un narratore esterno Tu non dovresti avere i flussi di coscienza Se no facevi la prima persona e tanti saluti Di tutte queste cose Poi essere pagata poco Passare mille mille ore in laboratorio Lo stress dei risultati eccetera eccetera Poteva affrontarlo Era qualcos'altro a trattenerla Dalla rendersi al più famigerato e deprimente girone infernale Cioè un programma di dottorato O meglio Che la trattenne finché non le fissano in un colloquio Per un posto al dipartimento di biologia di Stanford E non si imbatté nel tipo Ora appunto Era qualcos'altro a trattenerla Il problema è che Questo qualcos'altro non ci verrà mai detto Non c'è qualcos'altro Il fatto che la tratteneva era che pensava di non essere abbastanza Eccetera eccetera Che ci ha detto prima Quindi siamo alla prima pagina E già ci contrastiamo Però andiamo a vedere il tipo In pratica Nella prima scena Olive si trova in un bagno Perché Ha le lenti a contatto che le bruciano E Si trova con un tipo che entra nel bagno Quindi lei è interdetta Perché quella è la toiletta delle donne Invece Scopre che è il bagno di un laboratorio E La prima Il tipo dice No Perché non è il bagno Delle persone Del pubblico E lei L'unica cosa che Che arriva a pensare in questo momento Aveva una voce profonda Molto profonda Davvero profonda Profonda da far sognare Ok Vediamo che già Ha gli ormoni Che le arrivano alla testa E Vabbè Lei le chiede Sei sicuro Voglio dire Ma che domande sono Comunque In tutto ciò Lei non vede Non vede una cippa Perché Ha le Le lenti a contatto Scadute da due anni Negli occhi E le bruciano Che io voglio dire Lo fai una volta Non lo fai più No Lei è recidiva Lei lo fa spesso Invece a essere le lenti a contatto Ma io Cioè A parte che è una cosa stupida Perché lei Se le è messe a casa E poi è andata in laboratorio E poi hanno iniziato a bruciarle Fidatevi Se le lenti a contatto Hanno qualche problema Ve le mettete Piangete come dei disferati E nel momento stesso Ve le togliete Perché non riuscite a tenere gli occhi aperti Non è che vi danno fastidio Tre ore dopo Se il problema è che sono scadute Vabbè Comunque Il tipo Deve buttare Un reagente nello scarico Di un bagno Nei laboratori Di solito I lavandini Sono tipo Nella Non sono in un'altra stanza Sono di fianco Al tavolo Perché Può servire in fretta l'acqua Può servire in fretta l'acqua Non è che tu col tuo reagente Vai in bagno E lo butti Nello scarico a caso Anzi C'è tutto un protocollo In teoria Per smaltire i reagenti I rifiuti Degli esperimenti Però L'autrice È laureata In neuroscienze Credo Quindi Almeno Più o meno Come si sta in un laboratorio Dovrebbe saperlo Quindi io qua Non ci metto bocca Però per me Sono puttanate Per incontrare Sti due E partiamo bene Perché siamo solo Al prologo Comunque Lei Ripeto Ha gli occhi chiusi Perché Ha bruciore Quindi È come se fosse cieca Anche lì Non è che sei cieca Magari non riesce a tenerli aperti Però Riesce a vedere Un attimo No Lei non vede niente Ah vabbè Cioè Qua ci stiamo a dilungare troppo Però vabbè Lui le chiede Se lei stia bene E lei Pensa soltanto Doveva essere molto alto La sua voce pareva provenire Tre metri sopra di lei Beh Lui scopriremo dopo Che sarà alto Un metro e novanta Però lei O quasi due metri Comunque Ma lei è alta Un metro e ottanta Quindi sta roba Che sembra di parlare Con un gigante Non c'è Perché comunque La differenza Di 10 centimetri Fidatevi Anche se sono Mezzo metro di differenza Non sembra Che si stia parlando Comunque al terzo piano Di una palazzina Vabbè Tra l'altro Lei fa subito La parte della cattona Perché Cioè Sta parlando Con uno sconosciuto Che per quanto sa Potrebbe essere Il rettore dell'università E quindi Gli chiede Se non vada A una manifestazione Perché c'è il cibo gratis Ma datti un contegno Lo so Che gli universitari Sono poveri Però voglio dire 10 secondi Con lo sconosciuto E già apre La sua mente Malata E infatti Dice che dovrebbe Fare un colloquio Però Olive si morsicò Il labbro E se non fosse Abbastanza brava Sbottò E perché Santo cielo Perché metteva nudo Le paure più profonde Del suo cuoricino Segreto Davanti a un tizio Incontrato per caso Nel bagno Ma perché Il Narratore esterno Dovrebbe scrivere Il suo cuoricino Segreto Fammi capire Vabbè Fatto sta Che il tizio Le fa pat pat Sulla spalla Praticamente Lei è ancora lì Piegata sul lavandino E lui Le butta il reagente Davanti Che Ritorniamo al fatto Che questa cosa È pericolosa Io non la posso Sopportare Ma non importa Perché in questa scena Lei continua a vedere Una cippa E dice Lui si mosse Di uno Che c'è Tutta sta puttanata Perché lei Non poteva vedere Ma falle Togliere le lenti E poi Crivi una scena Normale Non Questa Questa roba Comunque Dopo Lei continua a parlare Del perché Vuole fare Il dottorato Post laurea Ed Sentiamo la cazzata Una cosa Che temo Nessun altro Scoprirò Se non lo faccio io Praticamente È arrivata Wonder Woman Ma secondo te Nel mondo Devi arrivare tu Perché la gente Scopra qualcosa È impossibile Ma tutte Le grandi scoperte Scientifiche Sono state Praticamente Scoperte Da più persone In contemporanea E in pratica Noi ci ricordiamo Il primo stronzo Che ha depositato Il brevetto O è diventato famoso Però Ce n'erano Un sacco di altre persone Che stavano facendo La stessa cosa Nello stesso momento E Vabbè Ve lo dico già adesso Lei vuole Creare Un modo Per Diagnosticare Precocemente Il cancro Al pancreas Che ok Però Non credo Che tu sia l'unica Al mondo Che voglia farlo Perché ti è morta La mamma Sì Altro spoiler Lei è morta La mamma Però si capiva Già da adesso Anche se cerchi Di tenere un mistero Il fatto sta Che lei È evidentemente Una persona sola E si deve sentire Diere le cose Agli sconosciuti Perché gli chiede La motivazione migliore Per iscriversi Lui intanto Se ne sta già andando E Da Tipo alla porta Le dice Sì è la migliore E lei Per questo motivo Si scrive Perché uno sconosciuto Le ha detto Che la sua motivazione È valida Ma di chi stai parlando Questo E questo È solo Il prologo Siamo solo Al prologo Poi Partiamo Dai capitoli veri Ogni capitolo Inizia con Un'ipotesi Fatta da Olive Su vari argomenti Tipo La primissima Adesso dopo Ve ne leggerò Solo Di divertenti Cioè di quelle Più divertenti Però la prima è Di fronte a una scelta Una situazione Leggermente seccante E B Un casino colossale Con conseguenze Vastanti Finirò Inevitabilmente Per scegliere La B E Praticamente Questi pozi Si andranno a confermarsi O smentirsi Nel capitolo Vabbè Ci frega qualcosa No Parte Due anni E undici mesi dopo Rispetto al prologo E parte così In difesa di Olive L'uomo Non parva attribuire Troppa importanza Al bacio Impiegò un momento Per adattarsi Il bacio Sarebbe potuto Sembrare una testata Maldestra E lei Temette di non riuscire A portarla a termine L'uomo Ispirò In modo brusco E inclinò appena la testa Smettendo di far sentire Olive Come un sai miri Che si arampicava Su un baobab E le sue mani Grandi E piacevolmente calde Nell'aria Condizionata al corridoio Le stringevano la vita Scivolarono verso l'alto Di qualche centimetro E la tirarono a sé Né troppo vicino Né troppo lontano Ok In pratica Cosa è successo? Come vi ho detto Nella trama Olive Si trova Nel laboratorio Di sera Perché è andata A continuare Il suo studio Il problema È che aveva detto Alla sua migliore amica Di cui adesso non mi ricordo Il nome Appena lo trovo Ve lo dico Che quel giorno Sarebbe uscita Per un appuntamento Non pensava Che la sua amica Sarebbe andata Al laboratorio Di sera E invece La vede Entrare nel corridoio Quindi cosa fa? Si gira Veramente Letteralmente Verso il primo Che becca E gli salta Alla gola Anzi no Perché questa Sarebbe una trama Fin troppo logica Non gli salta Alla gola Dal niente Sembra più Un bacetto prolungato Che altro Ma abbastanza gradevole E per una manciata E i secondi Olive dimenticò Le cose Molte cose Compreso il fatto Di essere stretta A uno sconosciuto Incontrato per caso Di aver avuto Appena il tempo Di sosterrare Posso baciarla Per favore Prima di coprergli Le labbra Con le proprie Quindi Lei ha avuto Il tempo Di vederlo Di rivolgergli La parola Perché Cioè Le persone Non è che Ci mettono Minuti interi A identificare Un'altra persona Che già Lo vedono Così Cioè A colpo d'occhio Tu sai Che quella persona La conosci Ora Magari Magari Non ti ricordi Il suo nome Magari Non ti ricordi Di averlo Già vista Cioè Magari Non ti ricordi Esattamente Chi sia Però Se è una persona Nota Che hai già visto Prima Che sai Che ricopre Qualche ruolo Lo sai Subito Chi è Se anche Hai il tempo Di rivolgergli La parola Quindi Visto che In questa scena Parla di uno Sconosciuto Uno presuppone Che lei Il professore Che sta limonando Non lo avesse mai Visto prima Invece no Invece no Dopo che Finiscono Di baciarsi Olive capì L'enormità Di ciò Che aveva appena Fatto Di chi Aveva appena Fanculo Alla sua vita Fanculo Alla sua vita Menodramma Già Perché il professor Adam Carlsen Carlsen Allora Lui si chiama Adam Carlsen Carlsen Però Io ogni volta Ho letto Carlisle Quindi Noi lo chiameremo Carlisle Perché il professor Carlisle Era uno stronzo Patentato E già qua Figuriamoci Però Dopo ci dirà Che lei Lo conosce Questo professore Lo ha visto In giro Per il campus In continuazione È noto A tutti Per essere Uno stronzo Che ti boccia In continuazione Quindi Lei la sua faccia La conosceva già Non ha Il minimo Senso Che Si sia lanciata Su di lui E solo dopo Averci limonata Per cinque minuti Vedi Chi è Non ha Il minimo Senso Il professor Carlisle Sarà pure Una Ah tra l'altro Cioè Sembra che abbia 35 anni Ed è già Acclamato Milioni di articoli Alla cattedra Cioè Ma dove Ma dove Vabbè Forse in America È più facile Però Vabbè Il professor Carlisle Sarà pure Stata una Giovane Rockstar Accademica E il bambino Prodigio Della biologia Ma era anche Meschino E ipercritico Ed era ovvio Dal modo in cui Parlava E in cui si comportava Che si credeva L'unica persona Capace di fare Scienza decorosamente Chiunque sapeva Che era un coglione Lunatico Odioso E terrificante Ok Questo Seguito da Aveva le labbra piene E tu Ogile E santo cielo Olive l'aveva baciato Era impossibile Negarlo Beh Direi Tuttavia Valeva la pena provare Beh Dopo che si staccano E La sua amica Se n'è andata Il professore Le chiede Tipo Ma Mi hai appena Baciato E lei Gli risponde No Come Stai A rispondere No Oltre al fatto Che ci eri appiccicata Fino a tre secondi fa Come una cozza Ma gliel'hai pure chiesto Gli hai chiesto Posso baciarti E poi ti sei lanciata Come puoi dire No Ma Cioè Ma Poi dice anche Valeva la pena provarci No non valeva la pena provarci Sei solo pazza Sei pazza No Lui vuole sapere Perché Cavolo Si sia ritrovata Una tizia Attaccata Alla sua Alla sua faccia E lei Dice Non voglio essere scortese Ma non sono affari tuoi Fino a prova contraria Se tu mi arrivi E mi limoni Così da niente Sono affari miei In ogni caso Visto Lui appunto È descritto come uno stronzo Spoiler È una persona normalissima Dimenticatevi Gli stronzi Aggressivi Di questi libri Soliti Lui è una persona Abbastanza normale Se non fosse che Per il fatto Che a 40 anni Praticamente Non li fai Sti giochettini Del cazzo E parli chiaro Direttamente Invece lui Si comporta Come un ragazzino Delle medie In realtà Tutti in questo libro Si comportano come ragazzini Delle medie Sono all'università Ma neanche ai primi anni Sono al dottorato Lui è un professore Ok In ogni caso Visto che lei Non vuole dirgli Cosa cavolo Stava facendo Lui La minaccia Di denunciarla Per molestie E io direi Giustamente Sotto questa minaccia Lei Gli spiega Che l'ha fatto Per la sua migliore amica E il narratore Ci racconta Che Quando era Oliver Uscita Con il suo Ex Jeremy Era diventato chiaro Che Jeremy Non Che a Jeremy Non fregasse niente di lei Ma che fosse interessato Alla sua migliore amica Che poi tra l'altro Lei Lei stessa Olive Dice che Di lui Non gli fregava niente Però Ci sono alcuni punti In cui sembra invece Che Ci sia rimasta male Non si capisce Cioè A tratti Non di fregare niente A tratti Sembra che ci sia rimasta male Però Quanto sta Che lei vuole Che la sua migliore amica E Jeremy Si mettano insieme Sua migliore amica Si chiama Anne Con la H Fina Vabbè Anne Comunque Lei In tutto ciò Non dice Ad Adam A Carlyle Qual è il suo nome E ce lo fa notare Perché quando lui Le dice Guarda che ti denuncio Lei gli risponde Vabbè ma non sai neanche Come mi chiamo Come fai Lui sembra Non preoccupato Di questa cosa E quando lei Se ne va Lui la saluta Dicendo Ciao Olive Però lei è talmente Cretina Che nonostante Gli avesse fatto notare Tre secondi prima Che non si conoscevano Non si rende Non si rende conto Che lui Sa già il suo nome Noi siamo a pagina 7 Praticamente Alla fine del primo capitolo E già sappiamo Per forza Che questo professore È il tipo Del bagno Del prologo Ma figurati C'era forse mistero No Non c'era mistero E qua arriviamo Finalmente a Anne Che le va a chiedere Del professore Di Carlyle E non si sa Per quale motivo Olive non le sta rispondendo I messaggi Da due giorni Ma se hai fatto Tutta sta pantomima Per la tua amica Poi perché sparisci Cosa vuol dire Che sei sparita Per due giorni Se ne salta parti Perché praticamente C'è Olive Che stima Il fatto che è sola Al mondo Che è poverina Che è sempre stata Sempre stata sola Non ha amici Non ha parenti Non ha nessuno Poi c'è Anne Che le rompe le palle Ogni tre secondi Ha un suo conflino Cioè Non è vero Che è sola Vabbè Non importa Frasette a caso Per sottolineare Che sono Nelle facoltà scientifiche Quindi è pieno di maschi Però Questa cosa Non ci prega niente Perché la trama Non c'è Non c'è praticamente niente Anzi 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 Appunto Ci viene detto Che ci sono Un sacco di uomini Poi alla fine C'è la sua Vabbè Sì È È un dato di fatto Che nelle materie STEM Ci sono un sacco di uomini Però qua È rappresentato Zero Ci viene detto Espressamente Dal narratore Però poi Non vediamo niente Perché è così Che non i libri E scopriamo Che Ann Ha anche un gruppo Di supporto Per le donne STEM E l'ha creato Perché Perché I suoi fratelli maggiori L'avevano preso in giro Chiamandola sfigata Perché amava così tanto La matematica A un'età in cui Essere sfigati Non era esattamente Considerato figo E io ho qua Una domanda Quando diventa figo Essere degli sfigati Mai Mai Vabbè Tutte queste cose Della vita triste Della La sua amica Soltanto per giustificare Il fatto che sta fingendo Di aver avuto Un appuntamento Con Carlyle Per farla stare Insieme Al suo ex Che poi Bastava Dire Sì Sto uscendo con lui Tutto ok Fine Non c'era modo Di ingannare Ann Non c'era modo Di ingannare nessuno Ann si sarebbe arrabbiata Poi Jeremy Si sarebbe arrabbiato Poi Anche Malcolm Che è il suo conculino E poi Olive Sarebbe rimasta Completamente da sola Il dolore L'avrebbe fatta bocciare La scuola di specializzazione Avrebbe perso il visto E la sua unica fonte di reddito Si sarebbe trasferita in Canada Donde nevicava sempre La gente mangiava cuore d'alce E Se vuoi Amica mia Ti presento Ivy Così andate a vivere Tutte due insieme Ivy ti fa apprezzare il Canada E siete tutti felici e contenti Comunque Tutta stanza Perché Sta appunto Mettendo Ann Cioè No Stai calma E Mentre lei si fa Ste pippe mentali Arriva Carlyle Mentre stanno parlando Lei e Ann Quindi Arriva così Carlyle Lo stronzo Il professore è terribile Eccetera E le pare al culo Fingendo di stare effettivamente con lei Perché ormai le voci sono sparse E lei quindi dice Vabbè ma diciamo che ci siano lasciati E basta E lui le fa notare che Se dicono che si sono lasciati Poi la sua amica Ann Non uscirà più con Jeremy E quindi Che senso ha tutto questo E in più Se dicono di essersi lasciati Non stanno smettendo le voci Secondo cui stavano insieme Ma le stanno Accreditando E quindi lui dice Continuiamo a fingere Magari finché i tuoi amici Non smetteranno di uscire insieme O forse Non avranno una relazione più solida Non saprei Qualunque cosa funzioni Immagino Non è Oliver non aveva idea Di come chiederlo Sposato o qualcosa del genere Carlyle doveva avere Circa 30 anni Un professore Circa 30 anni Che manco C'hai la laurea in mano A momenti Però vabbè 30 anni Ok E lui le risponde Mia moglie e i gemelli Non se la prenderanno E qua parte uno dei mille Pipponi di Olive Che però vengono fatti Attraverso il narratore esterno Ovvero Olive fu travolta Da un'ondata di calore Arrossì E poi quasi morì di vergogna Perché Dio Aveva costretto un uomo sposato Un padre di famiglia A baciarlo Ora chiunque pensava Che avesse un'avventura con lei Probabilmente sua moglie Stava soffocando le lacrime Nel cuscino I suoi figli sarebbero Cresciuti con gravissimi Problemi relazionali E sarebbero diventati Serial killer Ok Io Qua morta Cioè Ok Va bene Tutto a posto In ogni caso Carlisle Non è sposato Però Vuole Pingere di avere Questa relazione con lei Perché Nella sua università Si è sparsa La voce Che lui Voglia lasciare Stanford Per andare Ad Harvard Quindi Gli hanno bloccato Dei fondi Per la sua ricerca Perciò Le chiede di mantenere Questa farza Fino a metà settembre Fino a settembre Perché così Ci sarà la riunione Di In cui Il direttore Avrebbe deciso Come stanziare I fondi E Magari Vedendolo Impegnato In una relazione Lì Non avrebbe Creduto Possibile Che lui Lasciasse L'università E se ne andasse Certo Perché Iniziare Una relazione Con una tizia Da tre mesi In croce Impedisce A un accademico Di spostarsi Di qualche Centinaio Di chilometri E continuare La sua carriera Accademica È tutto Molto Realistico Ma in tutto ciò Lei che cosa Pensa Adam Carl Carson Aveva le fossette Tenerissime Ok Va bene Le priorità Comunque Dopo Qualche giorno Olive va a parlare Con lui E di base Accetta E Vanno a stabilire Le regole Un po' come 50 sfumature Con il contratto Una caratteristica Del cervello Di Olive È fare un sacco Di liste Tipo Avrebbe preferito Igaralunga Che la preside Non sapesse La sua esistenza D'altra parte Avrebbe anche preferito Non essere in quella stanza Con Carlisle Non dovere iniziare Il semestre Lì a pochi giorni Non avere il cambiamento Climatico Eppure Non poteva farci nulla Ok Arriviamo alle nostre regole Olive Se ne esce Con Vabbè L'accettare Ok Però Gli dice Tipo Non sarà il tuo ripiego Dell'ultimo minuto Se avessi bisogno Di portare Una ragazza A casa Per Natale E così Però Il fatto è che In tutto ciò È lei Che sbava Dietro di lui In continuazione Che dice Che è alto Potente Wow Fantastico Profuma di pulito E cazzate varie Cioè Andiamo avanti Seconda regola Lei dice Niente sesso Ok Nessuno Te l'ha mai chiesto Però va bene Per diversi istanti Adam Non si mosse Neanche di un millimetro Poi aprì le labbra Ma senza emettere Alcun suono E fu allora Che Olive Comprese Di averlo appena Lasciato senza parole Il che sarebbe stato divertente In qualsiasi altra occasione Ma il fatto che sembrasse muturita Perché lei non voleva fare Non voleva il sesso Nella loro finita relazione Le provocava un senso di vuoto Allo stomaco Che reazioni sono Sia da parte di lui Che tipo Statua di sale Quando lei lì C'è niente sesso Che voglio dire Mi sembra una Condizione abbastanza normale E anche che uno Abbia deciso Di dirtelo Proprio effettivamente E poi Neanche quella di lei Cioè Perché un senso di vuoto Vabbè Ma Ma Olive continua Aveva forse dato per scontato Che l'avrebbero fatto Lei glielo aveva forse Lasciato intendere Doveva confessare Di aver fatto pochissimo Sesso in vita sua Che per anni Si era domandata Se fosse assessuata E che appena di recente Aveva capito Che poteva provare Attrazione sessuale Ma soltanto verso persone Di cui si fidava ciecamente Che se Che se per qualche Spiegabile ragione Adam avesse voluto Andare a letto con lei Non sarebbe stata in grado Di accontentarlo Tutto da solo Tutto nella sua testa Nessuno le ha chiesto niente Assolutamente Lui La tranquillizza E dice No guarda Non ci abbiamo Neanche mai pensato E lei Ovviamente lui Non pretendeva di fare sesso E nemmeno voleva farlo con lei Perché avrebbe dovuto E qua Iniziamo a darci La frusta Da sole Perché Perché lui Dovrebbe interessarci A noi Che facciamo schifo E bla 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 Ma perché Ha almeno 26-27 anni Un minimo Di autostima A un certo punto Dovesse averla Maturata Voglio dire Ho capito Non credersi In Kim Kardashian Ma neanche Pensare Di fare schifo A A A A Qualsiasi cosa Cioè Briciolo Di No No Comunque Lei dal niente Sempre Gli dice Terza condizione Non uscirò mai Con nessun altro Che voglio dire Ma che cazzo Di problemi Hai Ehm Ma ancora una volta Esitò Vabbè Gli dice Non uscirò Con qualcun altro Perché sarebbe Un casino Complicherebbe Le cose Eccetera Eccetera Esitò Doveva dirglielo Erano troppe informazioni Era necessario Che lui le sapesse Beh Perché no A quel punto Dopotutto L'aveva baciato Inoltre Aveva parlato Di sesso con lui In suo luogo di lavoro Tutto così Tutto così Pieno di Frasi Domande Su domande Su domande Che voglio dire Datti una calmata Prendi uno Xanax E in ogni caso Appunto Si mettono d'accordo Decidono anche Che dovranno Vedersi Tipo una volta A settimana Perché se no Non sembra Che stiano insieme E quindi partono Praticamente Tutto il libro Si svolge Quella volta A settimana Tra l'altro Lei glielo propone Pensando che lui Dica di no Invece lui Semplicemente Se ne dice Con un va bene Si stringono la mano E lei Olive Che sono Che sono Alla 90% Vabbè Non al 90% Però In maggioranza Frequentate Da maschi Quindi Tutto ci lascia Presupporre Che tu A un certo punto Ti dovresti Essere Abituata Ai maschi Semplicemente Ad avere a che fare Con individui Maschi Invece no Evidentemente No Comunque Lei non sa Tenersi Niente E quindi Al suo Conquilino Racconta Tutto Vabbè Gli racconta Tutto Perché il suo Conquilino È stato Tipo Bocciato Da Carlyle E quindi Se l'è presa Un pochino A sapere Che lei Ci usciva Insieme Quindi Olive Gli ha raccontato La verità E lui All Avrei finto Di uscire Con te Senza pensarci Due volte Per risparmiarti Il maledetto Carlyle Ti avrei tenuto Per mano Ti avrei dato Il mio giubbotto Quando avessi Avuto freddo E ti avrei Regalato Pubblicamente Orsacchiotti E rose Di cioccolato A San Valentino E Ok Vabbè Il problema È che Malcom Porta a casa Una persona La sera E quelle persone Sono maschi Quindi Che cacchio Ci avrebbe fatto Con Olive Non poteva funzionare E passiamo Alla parte Più Vi racconto Un attimo Il suo lavoro In pratica Appunto Sta facendo Questa ricerca Per Trovare Gli indicatori Precoci Del Cancro Del pancreas E Il problema È che La sua professoressa Di riferimento Andrà in pensione Quindi Se ne sta sbattendo Il cazzo Non chiede Soldi Per il suo laboratorio Per i suoi Progetti Eccetera E quindi Olive Si troverà Senza Si trova Senza poter Andare avanti Senza poter Fare esperimenti Vi dicendo Alla fine Scopriremo Che in realtà È Olive Che non chiede Niente a questa professoressa E pensa E pensa di dover fare Tutto da sola Però Vabbè E E quindi Ha scritto A vari Professori Di varie università L'unico Che le ha risposto È un tizio Di Harvard E dopo Vedremo Perché è importante Comunque Io vorrei Sottolineare Che siamo A Stanford Quindi Per quanto Il tuo laboratorio Magari Rischia di chiudere Avrai Un certo Standard All'interno Dei laboratori Quindi come materiali Usati Eccetera Invece Dopo una mattina Passata a ringhiare Contro i reagenti Economici E taroccati Taroccati Ma secondo te Ma può un laboratorio Di Stanford Prendersi Reagenti Taroccati Ma poi che cosa Vuol dire Cioè Cioè I reagenti Sono reagenti Non è come Non lo so Se compri la droga Per strada Che chissà Cosa ci mettono Dentro Non ha senso Sono reagenti Chimici Avrai la composizione Chimica Quella è Quella deve reagire Ma non importa L'autrice È laureata Quindi io Alzo le mani E quello che scrive Non sarà buttato a caso Solo per la trama Figurati È arrivato Il primo giorno Il primo incontro Lei si lamenta Perché deve andare All'incontro con Carlyle Che ricordo Ha deciso assolutamente Lei Vanno in Caffetteria Da Starbucks Perché Lì ci sono tutti Quindi li avrebbero visti E avrebbero continuato A sparlare Per fare conversazione Lei chiede a Carlyle Qual è il suo colore preferito Ok Adesso ho capito il libro Lei in realtà Ha 15 anni È una bambina prodigio E quindi è già al dottorato Perché se no Non si spiega In altro modo E lui comunque Li chiede Perché lo voglia sapere E lei Cioè Lei è pazza Perché se qualcuno Cerca di capire Se stiamo davvero Scendo insieme Potrebbe essere Una delle prime domande Che mi rivolge Tra le prime 5 Sicuro Lui La guarda E le chiede Ti sembra Uno scenario probabile Cioè Lui Lui sembra Veramente Il genitore Che guarda Il figlio Che sta Leccando Delle lumache Sul marciapiede E gli chiede Tutto bene Tutto ok Vabbè Comunque Andiamo Andiamo avanti Velocemente Lui le offre Cibo Lei fa tipo No Me lo devo pagare io Perché Cioè Sono una donna Forte Indipendente Neanche finisce la frase Praticamente Che lui dice No ma non è che Lo sto pagando Perché Sono un uomo Lo sto pagando Perché tu sei ancora Una specializzanda E sei povera In culo Questa è una Paraclasi ovviamente Olie visitò Chiedendosi Se dovesse Offendersi No no Ti sta facendo Sono i conti In tasca Vi Conoscete Da tre giorni In croce E già Sa che tu Non puoi Permetterti Neanche un caffè Che io voglio dire Lui Non sa Niente Di lei Non sa Che non ha Genitori O altro Quindi Potenzialmente Potrebbe Potrebbe Però mettersi Anche una Maserati Tu non lo puoi Sapere Però vabbè Oliver Isitò Chiedendosi Se dovesse Offendersi Adam si comportava Da stronzo Come al solito La trattava Con condiscendenza Pensava Che fosse povera Poi si ricordò Che in effetti Era povera E che probabilmente Lui guadagnava Cinque volte Più di lei Scrollò le spalle Poi aggiunse Un caffè Poi aggiunse Al caffè Un biscotto Con le gocce Di cioccolato Una banane E un pacchetto Di gomme Da masticare Vabbè La dignità L'abbiamo buttata Nel pattume Tra l'altro Dopo Dice Che tutta Sta roba Era il suo Passo Di una settimana Ma che vuol dire Come fai A campare Una settimana Con dei chewing gum Prima appunto Li chiede Del colore preferito Poi ricordò A se stessa Che per quanto Fosse curiosa Di sapere Della madre Ambasciatrice Delle lingue Che Adam Conosceva E della sua Eventuale Predirezione Per i tulipani Quelle erano Informazioni Che andavano Ben oltre Il loro accordo Che problemi Hai nella vita Stai a prendere Un caffè Con uno Stai fingendo Di avere Una relazione Almeno Fai due Chiacchiere Così ti passa Il tempo No ho capito Lei gli chiede Il colore preferito Però fare due Chiacchiere Tra persone Adunte Apriti cielo E vabbè Qua la situazione Continua a essere Ridicola Io lo so Che tutte queste cose Magari si potrebbero Soltare Ma sono veramente Ridicole Lei gli ha chiesto Il suo colore preferito Tendenzialmente Come funziona Il nostro cervello Quando chiedi Una cosa Tu la risposta Per te stessa La sai già Se io chiedo A qualcuno Il mio colore preferito Mi aspetto Che poi me lo chieda A mia volta Cioè Me lo chieda A sua volta Quindi Io ci penso Già Qual è il mio colore preferito Adam Gli chiede Dopo mezz'ora Che hanno preso il caffè Qual è il tuo colore preferito E lei Ci pensa E non lo sa Non lo sa Va bene Comunque Non importa Incontro successivo Perché passiamo direttamente All'incontro la settimana dopo Lei vede che Tipo lui ha un taglio di capelli Diverso E vede che è di cattivo umore Quindi pensa che il cattivo umore Sia Per un taglio di capelli Vabbè Comunque Per farlo calmare Gli ordina Una camomilla Che lui odia E parte Sta frase Che schifo Cioè Non lo so Perché Ma me fa schifo Ma non importa Lui che gli dice Tipo Sei tremenda Non lo so E continuerà A ripetergliela Ogni volta Che lei dice Fa qualcosa Che dovrebbe essere Tipo un po Da stronzetta Così Però in realtà Cioè Tremenda niente È una bambina Che ha Delle elementari Che ha perso La storia Dei casa Praticamente Continua a essere convinta Che il suo cattivo umore È per il taglio di capelli E quindi gli dice Che non gli stanno male E poi Nella sua testa Ti donano Moltissimo La settimana scorsa Puoi dare una svegliata È evidente Che ti piace Smettila con Sta stupidaggine Del finto appuntamento Della finta relazione E fate roba Cioè Questa storia Non è realistica Perché non ha Nessun Senso Che questi due Non si siano saltati Addosso Così Che non si è scappato Nessun bacio Dopo Tre incontri Perché è palese Ma palese Che si piacciono A vicenda Dall'inizio Sono adulti Non ha nessun senso Che stiano aspettando L'Ave Maria In ogni caso Lui non si rende conto Di essere uno stronzo Così studente E glielo deve dire lei Non sentirà le voci In corridoio Evidentemente Vi ho detto Che lei Stava scrivendo Delle email Con un Professore Di Harvard In un'altra università Di Harvard E Usciti Dall'incontro In caffetteria C'è un tizio Che si avvicina A Carlyle E lo saluta Lei Finché non Lo presentano Quindi finché Carlyle Non le dice Ehi questo è il mio amico Benton Non Riconosce Il tizio Con cui Ha parlato Fino al giorno Per la cronaca Sui siti E le università Ci sono le foto E Se Digiti su Google Il nome di qualche professore Eccetera Ti esce fuori Ti escono fuori Le sue pubblicazioni Eccetera Probabilmente Ti escono anche le foto Lei È una Ritardata Senza Offesa Per i ritardati Cioè È scema È semplicemente Scema Non lo riconosce Non lo riconosce Finché non glielo presentano Comunque Qua C'è un'altra ipotesi Divertente Più ho bisogno Che il mio cervello Sia il massimo Nella forma E maggiori sono Le probabilità Che mi piatti In asso No amore No Non è che È sempre K Il tuo cervello Non funziona Mai Fidati di me Fatto sta Che appunto Visto che Il Il professore Con cui doveva Incontrarsi Perché Oliver doveva Incontrarsi con Benton Per discutere Delle sue ricerche E per Capire Se effettivamente Potessero essere In linea Con quelle di Benton Avrebbero dovuto Incontrarsi Tipo il giorno dopo Quindi Visto che Sono amici Con Carlyle Lui Benton Le fa il colloquio Direttamente Nella caffetteria Benton Le fa delle domande Di merda A cui lei Non sa rispondere Perché veramente Lei è una cretina Cioè Non si merita Tutto questo successo Va bene Non importa E sta andando Nel panico E a salvarla Sarà di nuovo Carlyle Che dice al suo amico Che quella Era una domanda Stupida E quindi Gliene fa un'altra E lei Può partire Con il discorso A parpardella Ora Se tu stai presentando Il tuo programma In ricerca Non puoi farti bloccare Soltanto perché Uno non ti pone La domanda Come tu ti aspettavi Cioè Un po' di Capacità Di Adattamento Nella vita Se uno ti dice Raccontami Della tua ricerca Senza farti Domande specifiche Tu parti Da un punto E arrivi Dove vuoi arrivare Tu Vabbè Non voglio Cioè Vabbè Poi Tom Che è Benton Tom Benton Ok Le chiede Perché si sia Interessata Questa malattia E senza mezzi termini Le chiede Tua mamma È morta Ottimo Tatto Però comunque Effettivamente Se tu sei Così Interessata A un A un Determinato Argomento È normale Che qualcuno Ti faccia la domanda Ehi ma un tuo parente È stato coinvolto Sei stata coinvolta Tu Che è successo Cioè È normale È una cosa normale Lei però Cade dal pelo Ci rimane male Perché non vuole Parler la madre Cagate Cagate Andiamo avanti veloce Ovviamente Lui la prende Non perché Sia amico No Cioè Lui la prende Perché lei è speciale Specializzi Come sempre Ipotesi In confronto A vari tipi di modelli Di mobili Le ginocchia di Adam Carlyle Rientrano nel quinto percentile Più alto di comfort Comodità E divertimento Certo Io Non so se vi ricordate How I Met Your Mother Quando c'era la puntata Di tesoro Il palazzo in cui vivo È molto sicuro Il padrone di casa Ha persino installato Le telecamere Nella mia doccia Oh tesoro In ogni caso Perché sta Cagata Sulle ginocchia Di Carlyle Praticamente Vanno Con Con Anne In un auditorium Dove Tom Benton Terrà un discorso Il problema È che L'auditorio È pienissimo Stracolmo Non ci si sta E quindi Anne La Obbliga A Sedersi Sulle ginocchia Di Carlyle Quanto Cioè Non siete Liceali Non siete liceali Siamo all'università E lui è un professore Un minimo di ritegno Ci vorrebbe Non puoi sederti Sulle sue ginocchia Così dal niente Anche se siete Fidanzati Anche se siete Sposati Non è una cosa Normale Beh Fatto sta Che lei Passa tutta La conferenza Sulle ginocchia Di lui Cioè lui L'ha stoccata Veramente Terribile E Ancora Non si spiega Perché Non si hanno Andati In una camera Tre secondi Dopo Proprio No motivi No motivi Tra l'altro Usciti dalla conferenza C'è tutto un ingorgo Nel parcheggio C'è una macchina ferma E Carlyle Da solo Da solo Con la sola forza Delle sue braccia Possenti La spinge di lato E c'è La descrizione è questa Le spalle E i bicipiti Mettevano a dura prova La camicia I dorsali tonici Si muovevano E si tenevano Visibilmente Sotto il tessuto Mentre si piegava E spostava Diverse tonnellate Per un lungo tratto Fino al posteggio Vuoto Più vicino Siamo in un parcheggio Pieno di persone In una facoltà Che abbiamo detto Essere quindi Stanno Piena Così di manzi Di maschi Di dito Ok Che saranno Tutti dei A parte Carlisle Che è tipo Ken Versione Col camice E gli altri Saranno Svingerlini E nerd Va bene Però Cioè I tre stronzi Che ti aiutano A spingere la macchina Non li hai trovati In tutta la squad Vabbè La spinta da su Anne Che dovrebbe essere L'amica La obbliga Ad andare A dargli un bacio Per quello che ha fatto Ma quanto È Inappropriato Nel senso Non voglio andarci Non ci vado Non è che perché me lo dici tu Allora io devo andare a dargli un bacio No è basta Invece Olive ci va Ci va Quindi Lei va a dargli un bacino E Fu un bacio Ma non proprio E certamente non giustificava Il modo in cui il cuore le batteva nel petto O quel qualcosa di caldo e liquido Che scorreva nel ventre Secondo me non scorre nel ventre Ma fu in basso Però va bene Non sgradevole Ma comunque confuso E un po' sfaventoso Olive indietreggia dopo un attimo Quando si tirò indietro sui talloni Adam Parve seguirla per una frazione di secondo Tentando di riempire lo spazio Tra le loro bocche Santo cielo Ma potete Fare le vostre cose Mettermi insieme veramente E chiudere Spaffuttanata di storia Perché non ha Senso Non ha senso Che voi non stiate insieme Ciao gatto Prossima scena trash È un picnic Un picnic Organizzato dalla facoltà E a cui vanno Vanno tutti E la luce è cambiata Adesso c'è il sole Non si capisce più niente Che bello Prima di passare alla prossima scena Imbarazzante Vi dico una cosina Che però serve veramente a poco Soltanto per farci capire Che Adam Non è stronto Però vabbè Un amico di Olive Va da lei Arrabbiatissimo Perché il professore Quindi Adam Lo ha costretto a riscrivere Buona parte della sua tesina Perché non andava bene Secondo gli standard Olive Che è scema Anche lei Va a scrivere A Adam Dicendogli Che si è comportato Da stronzo Che il suo amico Era furioso Eccetera E Adam Semplicemente Come è normale Che sia Le spiega Che la tesina Del suo amico Non andava bene Che lui Ha il compito Di far Rispettare Determinati standard E che quindi Quando quegli standard Non vengono rispettati Non gli farei niente Di essere gentili Con le persone Vanno E fatte Le ricerche Punto e basta Quindi infatti La questione dell'Adam È uno stronzo Eccetera Eccetera È una cazzata È una cazzata È una persona Assolutamente normale Ed equilibrata Tranne per il fatto Che si inventa stupidaggini Invece che Rivelare i suoi sentimenti Subito E ha 40 anni E ha 40 anni A parte questo È una persona normale Comunque Vanno Quindi A questo picnic Organizzato Dalla facoltà E c'è Adam Che sta giocando Tipo A Basket Credo Boh Non mi ricordo Quale Quale gioco Non è importante E C'è intanto Anne Che è fissata Con la protezione Solare Quindi Quando Adam Si avvicina A loro Costringe Olive A mettergliela Però Prima Olive Vede Adam Correrle Incontro E Pensa Poteva contare Sulla dita In una mano Il numero Di ragazzi Da cui era stata Visceralmente attratta In realtà Su un dito solo E in quel momento Quei ragazzi Stavano correndo Verso di lei Perché Tom Belton Dio lo benedica Aveva effettuato Un lancio maldestro E il frisbee Ah è frisbee Stavano giocando a frisbee E il frisbee Era atterrato Sull'erba Circa tre metri Da Olive E Adam Adam A torso nudo Era il giocatore Più vicino A quel punto Ok Quindi lo sai Che provi attrazione Potresti dirglielo Potresti saltargli Addosso Per cortesia E Vabbè Vabbè Poi La sua amica Che appunto Come ho detto È fissata Con la crema solare Costringe Olive A mettergliela Davanti A tutti Professori Studenti Cose Non è una cosa normale Cioè Ci sono le I luoghi adatti Per le cose adatte Cioè No Tra l'altro appunto Lui stava giocando a frisbee Sotto il sole È sudato Quindi chissà Cioè Non è propriamente bello Mettere la crema solare Così Però Lei dice Adam odorava il sudore fresco Di se stesso E di cocco Cosa vuol dire Odorava il sudore fresco Cioè L'odore di sudore È un odore particolare Non può essere fresco E che cazzo vuol dire Odorava il sudore fresco Cioè Tu hai le pigne Del cervello Non ci sono altre spiegazioni Vabbè Comunque Un suo amico Cioè Jeremy Le chiede Tipo Come Come sia possibile Accettare Un appuntamento Con Carlyle A meno Prima di vederlo A torso nudo Perlomeno E lei Vabbè Mente Dicendo Eh vabbè Mi ha chiesto un appuntamento E gli ho detto i sì Per poi pensare Un uomo con una pubblicazione Sul l'anestet E muscoli dorsali Così definiti Non avrebbe mai Invitato una come lei Basta 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 fingere Di fare schifo Basta È assurdo Assurdo Olive È in laboratorio Tardo da notte Perché Per essere presa Da Tom Benton Deve Stilare una relazione Con le sue ultime ricerche I suoi ultimi risultati E così via E ha pochissimo tempo Per farlo Quindi si ritrova In laboratorio A ogni ora Del giorno Va Alla macchinetta Per prendere Delle patatine Sale Aceto Parla da sola Con la macchinetta E da dietro Qualcuno le dice Prendi le mie Lei Sul sultano Si girò di scatto Con le mani Davanti al corpo Pronta a difendersi E forse anche Ad attaccare Non sei nella giunga Cioè ho capito Prendersi un colpo Però mi sembra Anche un po' Esagerato In ogni caso Chi c'è Ovviamente In laboratorio A quell'ora Adam Gli off Le sue patatine Perché abbiamo capito Che lui La deve sfamare In tutto e per tutto E i due rimangono Appunto seduti Uno di fianco all'altro Al buio E eccetera E qui Non ha assolutamente Il Senso Che Loro Non si Non si bacia Tra l'altro Stanno parlando Lui ride E lei E lei Lei dice Lo fece davvero ridere E questo Non trasformò Soltanto il suo viso Ma modificò L'intero spazio In cui vivevano Olive Convinse I suoi polmoni A non smettere Di funzionare A continuare Ad assorbire Ossigeno E i suoi occhi A non perdersi Nelle rughette Agli angoli Delle parforbe Di Adam Nelle fossette Al centro Delle sue guance Una calmata Ce la possiamo dare Per favore Comunque A questo punto Lei inizia a sospettare Che effettivamente Adam sia il tipo Del bagno Però è troppo scema E non glielo chiederà Mai Praticamente Lo esclude E basta Per non si sta Quella ragione Fatto sta Che Cioè Lei c'era pure arrivata Ce l'aveva fatto A fare Uno più uno Ma niente Niente Non ce la fa E tra l'altro Adam Pronuncia Anche le stesse Identiche parole Che il tipo Le aveva detto In bagno Quindi è proprio Neanche due più due Proprio Uno più uno Cioè È stupido Poter arrivarci Però niente Niente Vabbè E quindi si rende conto Di essersi Innamorata Dio grazie Di Adam E il problema È che qui parto Le puttanate Nel senso Adam Cioè Lei è convinta Che Adam Non ricambi I suoi sentimenti Perché è troppo Per lei Ovviamente E Adam Invece La sente parlare Con un suo amico In un bar Perché lei è scema Cioè Cosa succede Lei capisce Di essersi Innamorata di Adam Quindi chiama Malcolm Per andare A prendere un caffè Il problema È che sta cretina Si è dimenticata Che è il giorno In cui si devono incontrare Con Adam Quindi va Nel bar Parla con Adam Cioè Parla con Malcolm E gli dice Che si è innamorata Così colà E Adam Sente solo L'ultima parte Di questo discorso Perché arriva Proprio Quando sta dicendo L'ultima cosa E quindi Adam a sua volta Si convince Che lei È innamorata Di Jeremy Ma parlare Dico io Parlare no Manca tipo Due ore Alla fine del libro E Per tutto il tempo C'è questo Malinteso In cui Noi sappiamo Fastidiosamente Che loro Si amano Ma Lei non lo dice A lui Lui non lo dice A lei E quindi Perdiamo Un sacco Di tempo In ogni caso Poi vabbè Anche dei suoi Altri professori Che sono amici Di Adam Gli dicono Che è migliorato Molto Da quando Esce con lei Le solite cose Che ti dovrebbero Far capire Che lui Non è lì Soltanto Perché ha bisogno Di qualcosa Ma perché prova Veramente Sentimenti Per te Ma lei Non ci arriva Comunque Devono andare Tutti A una conferenza Vicino Ad Harvard E visto Che lei Sta con Adam E ai professori Pagano Una stanza I suoi amici Si mettono I suoi amici Ann Si mette D'accordo Con Jeremy Per prendersi Una stanza Lei Malcom È già con qualcuna Altra Non mi ricordo Comunque Fatto sta Che Danno per scontato Che Olive Sarà nella stanza Con Adam Quindi fanno Tutte le prenotazioni Senza di lei Lei ovviamente È rovinata Perché non ha I soldi Per permettersi Una camera Inizia a cercare Roba Lontanissima Eccetera Finché Adam Non la becca A cercare Queste cose E gli dice Vabbè ma Stai in stanza Con me Tanto io ci starò Solo il primo Io arrivo Due giorni Prima di te E Vado via Giorni prima Quindi Alla fine Che Condividiamo Effettivamente La stanza Sarà Soltanto Una notte E lei Si fissa Perché Ha visto Un sacco Di commedie Romantiche Quindi Nella sua Testa Anche se Adam Le assicura Mille volte Che La stanza È doppia E ha due Letti Lei È convinta Che Invece Avrà un solo Letto Perché Nelle commedie Romantiche In una situazione Del genere Si sarebbero Ritrovati A dover Condividere Un letto Certo Certo Spoiler La camera Avrò due Letti In ogni caso Vi ho detto Che Adam È convinto Che a lei Piaccia Jeremy E lei Invece Un altro Suo Collega Di Adam Dice Che C'è Una ragazza Che Gli piaceva Da anni E Che Di cui È innamorato Quindi Olive Si convince Che esista Una terza Persona Di cui Adam È innamorato Probabilmente Era splendida Femminile Tutta curva Una tipa Che Avesse davvero Bisogno Di indossare Un reggiseno Che non fosse Mezza parte I lentigini Che avesse Imparato L'arte Di applicare L'eyeliner Liquido Senza Combinare Disastri Intanto La gente Al giorno Ad oggi Se le tatue Le lentigini Quindi Non vedo Quale sia Il problema E C'è Comunque Sempre Gli stacchi Di legno A casa Sempre A martoriarsi Perché non siamo Belle Tutte queste cose Qua Ci hanno Un po' Stufate Comunque Vi ho detto Questa cosa Dell'unico letto Vi leggo Il dialogo Perché è Incredibile Ah ecco È una doppia Naturalmente Aggiunse lui Come se Quell'informazione Potesse convincerla Non è una buona idea Perché Perché la gente Penserà che Notando lo sguardo Di Anna Si zitti Beh ok Lo pensano già Cioè in pratica Lei si sta preoccupando Del fatto che la gente Pensi che loro Vadano a letto Però hanno tipo Trent'anni Stanno insieme La gente Sa già Che voi andate a letto Vabbè Ma Ma Si strofinò La fronte con le dita Ci sarà Un Ci sarà Un Unico letto No Come ho detto È una doppia No Ci sarà Un unico letto Di sicuro Adam Parlo perpresso Ci credo Ho ricevuto la conferma E la prenotazione L'altro giorno Te la posso inviare Se vuoi Dice che Non importa cosa dice È sempre un unico letto Lui la fissò Confuso E lei sospirò Appoggiandosi Impotente Allo schienare E della sedia Chiaramente Adam Non aveva mai visto Una commedia romantica Ho letto Un romanzo D'amore In vita sua Tu stai male Tu stai male Non è Cioè Ti ha detto Che è una doppia È una doppia Basta E infatti Sarà una doppia Andiamo Avanti Veloce Praticamente Appunto Dividono la stanza Sono abbastanza Tranquilli Cioè Lei arriva Vede che ci sono due letti E va tutto bene E Lui deve Lei deve Tenere Un discorso Su una sua ricerca Lui Fa parte Di Tipo Dei Grandi Di quella Di quella conferenza Quindi ha un sacco di discorsi E perciò Sarà impegnato Quando lei dovrà parlare Invece Tom Benton No E assiste Al suo discorso Quando finisce Il discorso Tom Benton Si avvicina Per parlare con lei Gli chiede Gli piace Vero Lei Dal niente Questa frase Non ha senso Niente Gli chiede Giustamente Cosa Metterti in ombra Tom si staccò Dal tavolo Avvicinandosi Adam mette Tutti in ombra Non è nulla E personale Olive confusa Avrebbe voluto Domandargli Che cosa intendesse Ma lui continuò Penso che io e te Andremo molto d'accordo L'anno prossimo Ah già Nel frattempo Lui l'ha presa A Darwin E in pratica Lui le fa capire Che l'ha presa Soltanto perché Visto che Lei La dà Ad Adam Non avrebbe avuto Problemi A darla anche a lui Fatto sta Che mentre lui le dice Che l'ha presa Solo per questo motivo Che lei Non vale niente Che la sua ricerca È inutile Eccetera Eccetera Lei ha ancora Il telefono Attaccato Con la registrazione Infatti stava registrando La conferenza Per poi farla sentire A Adam E quindi Dopo scoprirà Che questo pezzo L'ha registrato Visto che È in crisi esistenziale Adam decide Di prenderla E portarla A mangiare E stare tranquilli E dopo Finalmente Dopo Pagine Pagine In cui era evidente Che i due si piacevano Finiscono A letto Insieme Ovviamente Lui sotto il lenzuolo È praticamente Superman Lei prova cose Che non aveva mai provato Saltiamo avanti Queste scene Perché sono Letteralmente Imbalazzanti Ah e tra l'altro Cioè lui chiede Posso Troppe volte Cioè va bene il consenso Però così Cioè A sto punto Firmate i documenti prima Che almeno dopo taci Cioè Poi parla Non sa Perché parlate Durante le cose Non parlate durante le cose Per cortesia Cioè Terribile Terribile Cioè a un certo punto Lui dice Non puoi ancora venire Amico Amico Spidati Le donne possono Quante volte vogliono Non c'è bisogno che aspetti Puoi fare anche più volte Tranquillo E appunto Cioè Hanno già fatto preliminari Lei sarà Venta il mio 50 volte E così E lui E lui Dal nulla Le chiede Tipo Posso scoparti Ma per Io Ma perché Ma perché Dobbiamo rendere tutto Ancora più imbarazzato No Cioè Tu me lo chiedi No No Cioè No Fatto sta che lui la mattina dopo deve partire Olive scopre che Non gli hanno sbloccato i fondi E inoltre lui aveva deciso di andare a lavorare A Harvard Ovviamente Olive dopo che È successa questa cosa con Tom Tom Benton Va a Harvard Neanche se La portano per una strada La stricata d'oro E quindi In pratica Sparisce Perché Non vuole tipo Impedire a lui di andare a Harvard Cose così Ha accettato Il Di andare a Harvard Perché Sapeva che ci andava anche lei Però vabbè Lei non ci arriva E E non dice niente Su Su Tom Finché I suoi amici Non sentono la registrazione Per sbaglio E costringono Olive Ad andare A beccare Adam e Tom In una riunione Con i tizi di Harvard Per fargli sentire Cosa è successo Vabbè Qua la reazione di Adam È spropositata Perché rischia di picchiare Tom Che gli voglio dire Va ben tutto Però A 30 anni Se Per delle cose del genere Arrivi a prendere la gola Le persone Forse Hai qualche problema Però vabbè Questa è l'unica scena Di violenza effettiva Che c'è E Fatto sta Che tutto è bene Quel che finisce bene Perché Tom Viene licenziato Lei Ha seguito Il consiglio Di Adam E quindi Ha chiesto Alla sua professoressa Di contattare Altri Dipartimenti Per continuare La sua ricerca La professoressa Si è dimostrata gentile E quindi Ci sono altri laboratori Interessati Ai suoi lavori E ovviamente Adam rimarrà A Stanford Dopo che ha scoperto Che Tom In pratica Era un amico di merda Ah Quando i suoi amici Scrivono Sentono la registrazione Poi Malcolm Dice tutto Anche a Dan Le dice che Olive Stava soltanto fingendo Di stare con Con Adam Eccetera eccetera E Anne Se ne esce con No Questo è un film romantico Un romanzo Youngado Scritto male Non venderà molte copie Olive Di a Malcolm Di tenersi il suo lavoro Non ce la farà mai Come scrittore Quando lo sai anche tu Che stai scrivendo E la merda Appunto Tutto è bene Perché finisce bene Olive scopre Che è lui Il tipo del bagno E che Si era innamorato Di lei Praticamente Quella prima volta Che Si Cioè E vissero tutti felici E contenti In pratica E E fine Fine Basta Cioè L'altro tizio Malcolm si mette Con il miglior amico Di Adam Come sempre E Basta Cioè finisce con Una Un'uscita a 4 Tipo vabbè Questa era The love hypothesis E devo dire Che è molto trash Però anche molto divertente Ambientazione Dell'università Assolutamente buttata via E soprattutto appunto Commentate Iscrivetevi a questo canale Mi dispiace che la luce Ha camminata 50 volte C'è brutto tempo Non è colpa mia E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao